Buonasera, grazie per essere venuti, io sono Matteo Puglielo, direttore del Parco Storico di Pisseri Galliera e siamo qui, assieme a Marzo Massolo, per presentare questo libro perché proprio qui da Pisseri Galliera, il Natale del 2022, abbiamo realizzato una mostra che si chiamava Genova e il Natale, con gli occhi di Dickens, in collaborazione con i comuni di Genova, in particolar modo con il centro Dobsai, che ci aveva fornito le vedute di Luigi Garipo e non solo anche di altri, proprio per ricostruire qual era Genova che vive Dickens, anche perché molto spesso la Genova che vive è accostata nelle fotografie, che in realtà sono della seconda metà dell'Ottocento, ma noi sappiamo benissimo che lui qui c'è stato tra il 1844 ed il 1845. E' una fase urbanistica di Genova, sicuramente in evoluzione, ma che ci presenta la Genova, direi, completamente diversa da quella che noi vediamo oggi. Diciamo che l'unico numero rimasto di quello che vide Dickens all'epoca è quello costituito dalla zona di Montagna Marosa, il 25 aprile, che è l'ingresso a Via Garipalo. Per il resto, la città che vide Dickens, che frequenta Dickens, è completamente cambiata. Quindi oggi noi non facciamo altro che ripercorrere quali sono i luoghi, le tradizioni, i personaggi, con Marcos, che effettivamente Dickens vide, di questo nome. E cercheremo appunto di farvi vedere che passerà da una, vuol dire, disprezzo eccessivo. Però, da qualche perplessità, nei primi giorni, nei primi mesi, ecco, sulla città di Genova, ad una moretale. Una moretale che lui ricorderà sempre, in diversi articoli, in diversi libri anche, che lui fece negli anni successivi, e che ci restituisce una Genova, un spaccato non solo lì, il tetonio, l'antistico, eccetera, ma soprattutto uno spaccato sociale di una città che comunque, ancora oggi, quello si conserva, le sue contraddizioni, no? Io faccio l'insegnante, mi piace sempre far notare quanto ci sia un contrasto gigantesco tra Via Garibaldi, come si fanno dieci metri, si entra all'interno del centro storico, dove, diciamo, l'aspetto della città cambia, e anche, chiamiamola in maniera sociologica, anche l'umanità cambia, eh? Quindi, sono cose che Dickens si hanno dato. Ora, vedremo, vedremo uno spaccato della società, perché Dickens, ripeto, non si ferma, ma ha la facciata dei palazzi. Vuole indagare chi vi ha da dentro, e non solo i palazzi mobiliari, eh, i negozi, piuttosto che le case d'abitazione del centro storico, piuttosto che i mendicanti negli armi dei portoni, eccetera, fa delle descrizioni estremamente vive di questi personaggi e ci rende una Genova estremamente viva, non una Genova da guida turistica, diremmo oggi, non una Genova da manuale, da drink club, no? Per fare una specie di battuta. È proprio una Genova viva e vissuta, con i suoi predici, i suoi dettagli, che vanno da i quadri di Van Dijk all'ore trancido di latte rapreso dei mendicanti fuori dai negozi del centro storico. Quindi, diciamo, la descrizione è veramente importante. Allora, andiamo avanti con questo. Direttamente a... Forse ci sono i numeri, il numero 21, che viene finita in destra, a destra e basso, forse in atto, Matteo. Queste sono le pagine. Ah, ho le pagine. Faccio in atto, c'era. Sono da rinascarmi un teo, così fa. Grazie. Allora, in questa è la pagine del libro. Iniziamo da rimangere di Dikens, Il libro è un'eserchio, sono così, sono le tipiche mani del Dikens che conosciamo, sono quattro armoni neri che abbiamo un po' più esposto nella mostra, che vi ricordo che era peraltro coccinata dall'Oceano Dikens, un libro di Londra, che è anche un po' di interno come oggetto, che questo potete trovare all'interno di questo volume. È un Dikens che è penseroso, no? e ci viene sempre un po' da ricordare di una delle frasi più importanti, che mi disse, che non ti vedrò mai, qui la parola dice, che schierano, dice, quasi a termine della tua vita, che è un po' di interno. È una cosa interessante. In realtà ha detto, che vieni a Dikens che vieni a Dikens, vado a questo aspetto qua, estremamente più giovane, senza la tipica barba di ghenziani, e così, viene con la moglie, la cognata, e i loro, ovviamente i figli che vengono, con la prima moglie. C'è stata forza mezzatresca, oggi non parliamo, la cognata, quindi non riguarda ghenziani, quindi, o almeno. C'è un po' di interno, come dicevo, allora questo po' di interno, quando viene per la prima volta ghenziani, e il suo primo, l'impatto con la città, lo vediamo, questa, questa litografia di cambiato, di questo quadro di cambiato, è effettivamente questa, una città che non ha ancora la vita, con la mia, che verrà colpa, qui è, dai gruppi galliera, quindi, 1875, 1895, qui invece, ci viene eseguita questa città. è una città, come dicevo, con, con altre informazioni, no? La linea economia, l'apertura dell'attuale, i granami, ci sono, soprattutto, una serie di, di situazioni, di una, una città che inizia ad essere, che permette dopo anni, di sostanziali comunismo, eh? Però, ovviamente, la Genova più difficile dal mare, è questa. E anche, la navigazione, Villa Magliarello, è ad all'alba, e, mi viene, diciamo così, curata da un amico, in loco, diciamo, in inglese, orientato a Genova, e, eh, la dimensione da, le alba hanno testo. Perché? Poi, come iniziate, sono po' di farne, immaginate, che avranno, sempre prendete, che ha delle, verabili, eccetera. Siamo in una fase, storica, in cui, le file, di alba, in realtà, sono, un po' dimenticate, in loro proprietà. Lui, ad esempio, entra, nel gioco, le ville, avrissare, e, lo descrive, con queste stalle, praticamente, macinenti, che viene di muschi, l'erba che o è troppo alta o è troppo bassa e già arriva assolutamente l'uncura. Perché? Perché l'attenzione delle famiglie aristocratiche dell'Essa si era spostata verso i componenti cittadini, che vengono sviluppati in grandi parti della città, appunto, nelle due ali dell'attuale città di Genova, quindi Nervi, e ovviamente per noi oggi non c'è, però Sampiettarena, Pornigliano, Sesse, Vedi, Bravi, Genova. L'impressione quindi che ha l'inizio di Alvaro è questa, cioè di una zona della città che era stata descritta dei suoi predecessori, no? Altri grandi literati che avevano presentato la città di Genova in una determinata maniera, ma che lui, come dire, è stata come un'altra. Non so se scrivere che forse trova nella casa, forse lo tirava qualcosa da mano con i dati, però iniziano poi le politiche difficoltà e le caratteristiche del paesato, un filo, diciamo, e uno si ferma che è una cosa bella di vita, che è stata di genova. Cosa significa? Si accorge subito che c'è un rapporto mare-giardino-ponte, lo dice proprio. E c'è questo rapporto in cui il paesaggio, la platina è in mezzo del paesaggio. Non è la platina di donna quella. Lui ha proprio questa percezione che lo scrive nel suo diario, lo affascinano queste vigne infinite, delle persone che si perdono verso il blu profondo del mare, e che invece si amalgamano con il verte dell'infotelra, dell'immigliata linfotelra della città. E pian piano inizia a cambiare le linee del soggetto, ma anche inizia a frequentare la città, i suoi direzimenti, i suoi di due anni, la storia che ha con Genova, viene raccolta nel Pictures from Italy. Pensate che in un libro di circa 150 pagine, la Genova è occupata nel 1940. Quindi potete già vedere da questo quanto Genova è stata importante nel suo viaggio in Italia. Questa è la cenoba, la barra più in fondo, la villa Rosardino è il centro di questa composizione, ma questo rende molto attento del fatto che erano le altre protine. Abbiamo scelto, abbiamo scelto, molto stimato, per creare esattamente l'idea di quello che mi sembra quasi arrivare in infinito verso il blu e viceversa questo verde che si mescola con quello che c'è invece la spalla dell'edificio di blu. È una genova, ripeto, tuttamente diversa da quella che abbiamo visto oggi, tuttamente diversa da quella che abbiamo visto nel 1270. qui siamo nelle tura basse dal progetto di Bisagna. Questa tela ci offre questa zona di Genova che è attualmente occupata da Via Venti Settembre, Via Cesarea, Piazza D'Avittorio, eccetera. Qui in realtà di me si tengono questa situazione qua. E c'è un episodio curioso, un po' diciamo ridicolo, perché di me si dicevo inizi a frequentare i salotti, le feste serali, eccetera, nella zona attorno all'alto solo, no? E una sera sono un po' poco tardi. E si ricorda che in realtà la Genova è dotata di mura e che queste muovono la notte e chiudono. E c'è questa forza rocambolesca in Via Serra dove si inciampa, si spuccia il ginocchio, poi arriva il fondo e trova praticamente questi due guardie segnali che sono nei pianti, con la quarta e la quarta parte che praticamente dicono, si accomodi pure fuori, no? E questo episodio viene descritto da noi stessi perché è una volta divertente anche. Però ci fa capire anche che Genova ovviamente aveva ancora quella dimensione di città chiusa all'interno di Roma. Non mi so perdere sul qualità che è ancora grave che c'era proprio qui la parla vicino alle peschiere e ne parleremo, ne parleremo più tardi. Dickens frequenta l'acqua sola e i giardini di Villetta di Negro. Non ho chiesto di trocato di Negro, non lo farà, non lo farà, ma anche dopo, ma studioso, botanico, conosciuto anche a livello internazionale, ecco. Soprattutto vi viene da dire per le sue improvvisazioni che ha mai cantare proprio la sua villetta. Allora qua troviamo quella, troviamo l'acqua sola e la della mia villa che vive già qui. La cascata grande della Renata successivamente, qua lo vedete, nel 1960 circa. In Rambano c'era, si vedevano ancora i bastioni, c'era questa sorta di montana la Roccali che, diciamo, riempiva una masca, poi questi sentieri attivizzati che risalivano la collina. il giardino della Villetta di Negro era arrivato qua dentro, e lo vedete, c'era una specie di struttura neodotica che spunta fuori e che voi trovate ancora a spuntare lì, nella porta del 1960 circa. Era una delle strutture molto poco da giocare di negro. Poi la struttura nera poi, cioè, diventerà diventerà molti comunali, diciamo, nel recentissimo passato, totalmente trasformati, cambierà completamente molto. Vedete la cavallerizza che era quella che circondava proprio i giardini della scuola, e vedete anche che c'è un ingresso, non mi piace che sia questo scherzo, perché si vede come, ovviamente, lo vediamo tramite la mostra, nel libro che si fa in partita, ma qui c'è l'ingresso al piatto di Bruno. E, secondo te, c'è un manifesto di uno spettacolo teatrale affisso al muro. Queste, queste acquarelli di Galicola non sono, come questo altro che vi dici, con i personaggi a passeggio, questi piccoli dettagli, restituiscono graficamente quello che dici, se restituisce invece nei suoi scritti, no? Ci comunicano in maniera grafica, in maniera massiva, spettacolo, effettivamente delle scritte, parla di questa passeggiata, che è tantissima, dai bellissotratici, dai novi di Genovesi, e eccetera, e parla ovviamente il teatro di uno che nei suoi, e dei suoi scrittacoli. Ecco, lo teatro di uno che invece vi sono usato da un'altra parte, no? Questa è la materia della protezione privata. Anche qua, vedete, spunta sempre lì da qua vicino delle schiere, e in ogni inquadro, qui ancora le linee che si sviluppavano dove oggi c'è, diciamo, la donna di via Sanotti, per capirci, e guardate un attimino proprio le migliori alle spalle della città fracera. Campagna terra. Eh, questa è una ricetta veramente eccezionale. Sempre un visita ricco. Questi sono i denti di Genova, no? Che lui inizia a vedere molto bene quando poi si trasferirà in la parola vicina delle schiere. Ed è colpito da questo teatro di piccoli, di biose, di denti che spuntano in continuazione, che cambiano a scuola della luce del sole, e, a un certo punto, quello che può esplorare, diciamo, di basso a cui il vento della persona, che può fare i salotti, con i picciole, diciamo, serati. e, per sua fortuna, si libera una residenza. Si libera proprio qui da la vicina delle schiere, e si trasferisce con tutta la famiglia in una villa che lui definirà la più bella vita, le belle tutte e le belle interne, che chiaramente ha. Qua, da proviamo in due, due vedute diverse, quindi è la stanza, in un'incisione che vi parerò tra poco. Qui vedete proprio il grande volume della villa, che, oggi che oggi, non viene minimamente percepito all'interno della città. Ci sono questi palazzi giganteschi, che coprono i tre lati della villa che, fortuna, a tomare, è ancora completamente aperta, quindi, come dice Dickens, vedo dai tempi del circostore, così dalla l'alterna, quello si percepisce, si percepisce ancora. Ma, John Foster, grande amico di Dickens, che scriverà proprio The Life of Charles Dickens, nel suo libro, realizza quei disegni, che farei all'interno e disegni, ci rinnoviamo. Uno è quello di Villa Dagnarello, che è l'interno di Rizzoli. Il secondo è questo, di Villa con la vicino delle peschiere, ed è una verità precifica, perché questo era il viaggio dell'accesso principale alla villa, che poi verrà completamente demolito e trasformato. Per chi fa, diciamo, di ricerche storiche sul paesaggio, per mezzo di mille, è un movimento grafico fondamentale, ecco, assolutamente, diciamo, in reddito anche se, guardate bene, anche lì, nel viaggio, per l'accesso. Non sto, ovviamente, magari a stare via con la vicino delle peschiere, con solo che, mi piace un po' questa zona qua, della villa, e avrà la camera da letto, in questa sala, chiamata la sala di Pettonte, lui dice proprio in una lettera, ci abbiamo messo un po' a capire la stessa cosa, perché, perché, vedete, scrive questi, a pressi di Michelangelo, che è di grande, non sono, con questi due cavalli, che cadono sul buon letto, in realtà, effettivamente, cadevano, come volete, sul letto, sul suo buon letto, cioè, su quello dove dormiva, quindi avevamo anche la posizione esatta, diciamo, per ricostruire anche la posizione esatta del letto di Dickens, all'interno di questa villa. Nell'altra, nell'altra sala, quella di Diana, lui aveva lo studio, e, proprio in questo studio, scrisse il secondo racconto di Natale, The Chimes, lo scrisse qua a Genova, e lo presentò, proprio nel 1244, a Londra. Allora, lui ormai era, innamorato di Genova, non se ne potrebbe andare, ma anche in marketing, chiama, lui era estremamente abile, ok, nella comunicazione, nel marketing, nel vendere i propri libri, era veramente un scegno, e ci mettiamo molta attenzione. Quindi, cosa fa? Programma, un pianso brevissimo, a Londra, sotto il tempo di, fare una lettura privata, di questo libro, e ai suoi amici, e di presentare, poi, oficialmente, il mercato, per poi scappare, del nuovo senso, perché lui, Natale, lo vuole, Natale, tanto l'anno, soprattutto, lo vuole passare, quindi, si produce proprio, tutta la nostra famiglia, è rimasta qua, quindi, è ovvio, che vi voglia, tornare. Allora, vi trovate, una scena, una scena, sempre, presenti, in live, o, Charles Dickens, della prima lettura, di questo libro, che viene tradotto, le campane, in italiano, no? Questa è la prima edizione, che provate, è risposta qua davanti, del libro, appunto, che lui si disse, a Genova. Questo è un disegno, fatto, sul momento, della lettura, da Daniel Kittis, che era, uno, diciamo, di cartizze, estremamente, importanti, in fila terra, nonché, grande, di Ludwig, che è, credo, di aver fatto, una decina, di ratti, abbiamo, praticamente, dell'Iber, c'è un sito, c'è un sito, c'è un sito, c'è un sito, grazie a lui, oltre a quale, è giocoposto, scusate. Gran camminatore, vuole, conoscere, le pire, vuole, conoscere, le tere, e inizia, a esplorare la città, al di fuori, al di fuori, al di fuori, qua troviamo, due vedute, della laterna, in posizioni diverse, guardate come era, San Pier d'Area, nel 1835, circa, dove le rive, si affacciano, sul manano, viene, quando descrive, la costa di Nicola, è impressionante, questi grandi palazzi, con i giardini, e i barri, che, si affacciano, praticamente, quasi sulla spiaggia, è riconoscibile, tutto quello, noi, non la prendiamo, potremmo, non vedere, la roba del genere, lui, che cosa fa? Valizzo, in nave, ma, decidendo, andare in raccogra, con un preciso, scopo, di, visitare, diciamo così, di vedere, i buoni marinari, della Liguria, e di vestire, estremamente poveri, con queste persone, tantissimi pescatori, che però, non sono vestiti, diciamo, di male, con abiti, diciamo, non c'erano quelli, che aveva, ricordato lui, nelle serate, in dettaglio, per capirci, lui, descrive, un po' un dettismo tipico, diciamo, di Dickens, e, con un'altra, posizione estremamente, analitica, molto giornalistica, di quello che vede, ok? Non fa, una, diciamo così, non è una descrizione, fredda, ok? È una descrizione, che, mette del pathos, e ci fa capire, sicuramente, in quali condizioni, sia, nei buoni marinari. Tenete conto, che, se Genova, fine del Settecento, e i primi decenni, dell'Ottocento, non se la passava, inizio, non è un'idea economica, ma, a livello, politico, figurarsi, le due riviere. Questa, invece, la visione, della materna, questa, da San Pierdarena, verso, verso Genova, anche questa visuale, qua, ovviamente, completamente scomparsa, eh, assieme a, assieme fisicamente, alla promenna, di San Pedro. di San Pierdarena. Esattamente. Eh, quando, qua, quando, diciamo, così certamente, perché noi siamo sicurissimi, non si capisce, se lui la visita, eh, appositamente, o se effettivamente, lui la visita, direttamente, lo organizza, si innamora, di una prima, in particolare, che è Villadoria, a Peppi. E, lui la vuole, per me, che abbiamo visto, Don, non ce la fa, perché, in quel momento, è occupata, ma questo è il parco, di Villatoria, alle immediate spalle del palazzo, come si presentava, nel 1830, quindi, anche, sicuramente, lui la vive ancora così, in Giambi, non lo viene ancora così, non c'è più, di, non c'è più nulla di tutto, quello che voi vedete, è stato completamente, trasformato, perché, sono dedicato, a me, di questa cosa. Comunque, anche qua, ci ha spaccato, di, il carico, il carico vivo, non ci scrive, se lo giardino, guardate, questa coppia, un'accetto, che qua, si è sottopergolata, no? Questa è una visione, che lui ricorderà, una villa amantissima, che lui, prende, e mette, all'interno, un racconto, tradotto per l'alto italiano, che deve essere, di lui dire, una specie di racconto, da, da Aldo, no? Ci sono, non è una parte del, è proprio così, ci sono, francese, tedesco, l'italiano, e mi ricordo, che sono, è il quarto, ciascuno di loro, racconta, una storia, dell'oratore, eh? Che ha vissuto, personalmente, l'italiano, si chiama, Giovanni Battista, il libro, nome genovese, e la sua storia, si svolge, in una villa, a 6 miglia, dal centro della città, con queste persiane, gigantesche, completamente chiuse, dove, verrà, spiegata, una pindola, in vese, e verrà, abita da, non si sa bene, se un fantasma, o, insomma, una sorta di spettro, che, fa infattire, questa signora, che a un certo punto, scompariva dalla vita, e il marito, non mi ha accettato, senza, diciamo, senza, della tua volta, vi ho detto che, era un gran camminatore, proprio, alle riviere, andò nel metro terra, questo robo, lì, che lo descrive, si descrive, la qualità, si scrive, la qualità, la proceda, questa, è la qualità, del tagno, questa è la zona del bar, per aspirci, qui c'è Carignano, la terra, non lo siete benissimo, vedete ancora le nuve, che risalano le colline, e qui vedete, c'è sempre dei personaggi, dei contadini, che costellano le immagini, di Luigi Carignano, con le immagini, che trovate all'interno del mondo. In Val Volcevera, arriverà anche, in cima a un monte, il monte di Cogna, e vedrà, la, il santuario della guardia, che è questo, non è il santuario della guardia, che facciamo noi, che ha subito, tra le sue persone, decisamente più moderne, questo era il santuario della guardia, che per secoli, le persone hanno, hanno visitato. Ed è che lui lo ride, ovviamente così. Ci sono anche delle copie, in realtà, che lo ritrapano ancora, prima della trasformazione. Questo documento, però, sempre di lui, nel 230, è tutta la parte, di una collezione, di una collezione, di un libro, che conteneva tutti i santuari, del regno e del santo. Rimaiamo sul tema religioso. Una delle cose, con cui esistono di più, non tante, diciamo, lui non si è abituato, ad essere, una persona religiosa, no? Vicino a, parloci, che siano protestanti, o che siano, cattolici, quindi, non è cambiato, questo, questo grande cuore, da, da, mi viene da vedere, forse anche dal punto di vista, è incuriosito, dalle processioni, e dal castello, meravigliose, me ne descrivo, due, molto brevemente, la prima, è, la processione, di Sant'Anna, eh, ad Alvaro, dove, abbiamo, qua, per la fine, dopo la nostra, questa chiesetta, microscopica, di origine medievale, che c'è ancora, ad Alvaro, che è chiusa, da decenni, purtroppo, lui descrive, la festa di Sant'Anna, con questi ragazzetti, con vestiti, fatti di, traccia uva, con queste foglie, no, di uva, che, che li coprivano, e che, a termine, nella processione, si sono, straffano, tutte queste, tutte queste foglie, e si gettano, in mare, e ci siamo chiesti, ma perché, durante la festa di Sant'Anna, questi ragazzetti, si vestivano, con traccia uva, premesso che, era, fin con le processioni, a vestirsi, eh, i bambini, si travestissero, da santi, eccetera, fino al 1945, nel terreno, nel terreno, e 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 nel terreno, Sant'Anna, è legata, alla maturazione, di a lua, da quel momento lì, l'uva, non poteva più essere toccata, e i bambini, assolutamente, non potevano, neanche pensare, di prendere un acino, e mangiarsi, perché, perché dovevano servire, per la produzione del vino, ci siamo, quindi, era una sorta di diritto, di passaggio, stagionale, e, i tracci della vite, venivano effettivamente, ricordavano, questo rapporto, tra Sant'Anna, e il veneto, che è chiamato, tecnicamente, dell'impaiatura, cioè, l'edilizio e la maturazione del vino. Poi, mi riguarda un'anca, ed è colpito, in maniera particolare, oltre che, nei metri, delle donne, che erano sedute, che manca in chiedita, anche, da, una fratella, che è vestita di blu, che aveva il compito, di ufficiare, le messe per i deputti, e di trasportare, dei deputti, poi al cimino. Dice, in uno stato, che non ti garantisce, in sostanza, il minimo, ma che ricameremo, il minimo, dei servizi sociali, questi confraterni, che anche si fanno, un po' paura, con questi cappucci, Appunta, effettivamente, suonano un servizio, territorio, nei confronti, dei poveracci, no? Diciamo così, degli invicenti, diremmo, diremmo, diremmo. Un'altra chiesa, che vi vide, è quella dell'Annunziata, al passato, che non è da compondere, perché, nel libro, ci si chiede, qui vide, diciamo, la chiesa, la chiesa dell'Annunziata, e molti la compongono, con Carignano, della scuola. Invece no, non vide quella, almeno negli anni, non compare mai, ma compare questa chiesa, e lui si dice, ma sono qua, sono passato davanti a questa chiesa, ci sono, tantamente, i pontetti, i lantieri, perché, proprio in quegli anni, stavano facendo, la facciata dell'Annunziata, del passato, come la conosciamo noi oggi. E, anche in questo suo diario, oggi, dà, un'attività, sinceramente interessante, no? Nella trasformazione urbanistica, estetica della città. Questo è quello che lui vide, però, con i puntetti, diciamo, così davanti, probabilmente con, qualcuna di quelle colonne, gigantesche, no? che siamo abituati a vedere noi oggi, in costruzione. Lui, viaggiava molto, se stavano, troppo l'uomo, dicono, lui viaggiava molto, anche per le costruzioni, e, soprattutto, lui frequenta, una pizzeria, pizzeria, che mi dice, i proprietari, sono spizzeri, Flying Booty, no? Quindi, Flying Booty, è il protagonista di questa cosa. Lui, ripara di Milterra, questa torca, che è una torca della dodicesima notte, se voi fate i conti, è la dodicesima notte del periodo d'analizio e la notte dell'epifania. È una torca che si viene in Milterra, si dava in epoca vittoriana, in Milterra, in Milterra, si metteva una sola sorpresa, così, e un bambino, incortunato, che tagliava la pesta, gli troppi, mangiava la pesta, di torta, con la sorpresa, la trovava, aveva un regalo, di un'esplata dagli altri. La torca era, riccamente decorata, imposta di zucchero, molto spesso, c'erano i personaggi, della donazione dei Magi, che venivano messi, su qualsiasi, infatti, di pappazzucero, che venivano messi, su questa torta. Lui la fa arrivare, arriva con queste figurine, un po' maccate, e cosa fa? Porta alla sua pasticere di fiducia, vorrei dire, il signore, che tenta di rimetterli a posto, questa torta, ce l'ha fatto. E, a composta di marketing, come dicevamo prima, prima di resi, la linea, si prende questa torta, la mette in piedrino. Ma è vero dire. Guardate questo bravo, e vediamo in tempo di realità, probabilmente l'ha stato bravo, rimedio alla posto, perché, no, tenete di niente, di realità, di realità, di realità. Quale cosa da ricostruzione, quindi ho la decisione, che ce l'abbiamo fatto, spostamente, per la nostra, e ci siamo divertiti, anche mentre degli oggetti, diciamo, di vita reale, e, avete fatto questa decorazione, natalizia, la stessa versione, che è stata utilizzata, per farci ridere, da Dato Nelvi, in una delle, in una puntata, scusa fuori, questa torta natale. Direi, questa è l'ultima. Cianzì, ha visto il nostro progetto, ha deciso di dare, a patrocinio, anche il volume, all'introduzione, della direttrice, del Dickens Museum, di Londra, insieme alla Dickens Fellowship, diciamo, sia internazionale, che quella, ideale italiana, di Carrara, e, quando, abbiamo chiesto, se c'era qualcosa, di Genova, se si era conservato qualcosa, hanno, diciamo, mostrato le lettere, ma, hanno anche, questi due, cartellari, che ricompra Genova, e, orna, in Inghilterra, che vedete, esposti, ancora oggi, nel, in una delle sale, qua, che questi due cartellari, protetti da una, teca, sono proprio quelli, che ricomprò Genova, mentre questa, era, diciamo, la sua corsetta, da, a bianco, ecco, c'è anche scritta la data, se vedete, 1848, quindi, proprio quella che, qui, usò, ok, si era, mi preme dire, una cosa, il rapporto con Genova, con il personale, non si è esaurito qui, pensate che, lui conosceva, Martini, come è fatto, Martini, in quell'epoca, era, esiliato a Londra, e, lì a Londra, aveva, appuntato una scuola, per, bambini, immigrati, italiani, ai quali, che, ovviamente, vi consentiva, di parlare la lingua, trovare un lavoro, eccetera, venivano chiamati, i, bambini, i ragazzi dell'organetto, perché, si riconoscevano, i bambini italiani, per il fatto, che si trovavano, negli angoli di Londra, con l'organetto, e la chitarra, molto spesso, eh, quando lì, tornerava l'Inghilterra, manca nel 1846, succede un fatto, e, un signore, che si spacciava per Martini, fa la sua porta, e chiede dei soldi, per finanziare la scuola, in realtà, non era Martini, era un italiano, che si era spacciato, appunto, per Giuseppe Martini, Martini, lui però, in buona, chiede questi soldi, gli ha i dati, si viene a scoprire, che, ovviamente, non era lui, va in tribunale, dice la carta, eccetera, e, in sostanza, Martini dice, beh, incontriamoci, così, che è il vero Martini, che vede la scuola, su cui io sto lavorando, Dickens, fa la scuola, e Martini va a cena, a casa di Dickens, i due, diciamo, instaureranno, in particolare, inizia a Dickens, si fa la portavoce, della causa italiana, della causa, diciamo così, martiniana, in Inghilterra, attraverso la comunicazione, di tantissimi, e, veramente, tutti, e, Dickens finanzia, l'altra scuola, per i migranti italiani, all'opera di pasta sua, questo è un altro segnale, di quanto Genova, sia stata importante, come personaggio, come sono speciali, ci servono tantissime, altre cose da dire, di quanto lui descriva, i ravioli, piuttosto che le ricette, delle pippe, piuttosto che, la prima descrizione, documentata, della, come si chiama, della massardella, di santo cedio, un salame sbalmabile, messo su una fetta di pane, con sopra un pinto, una fetta di pifo, che è, finché il salame, però, è una delle cose più buone, che si trova, nelle progetti. La trippa, è fondamentale, perché, la troverete anche, dopo, nel racconto di Natale, quello che lui scrive, è il racconto di Capodanno, perché, mentre, Cristo a scherzo, si può, nella notte di Natale, questo, invece, si può, nella notte di Natale, non fa parte di una storia, leggetevi il libro, c'è una critica, molto forte, alla società, di Mariana, diciamo che, le apparizioni, che era questo vecchietto, che assomiglia, parli a, veramente, un vecchietto, non lo vedete, non lo vedete, dei presenti, che troviamo, e vari medicanti, che troviamo, che lo vedete, a queste visioni, causate da che cosa? Da un'indigestione, di grippe. E le campagne, attenzione, come dice lui, Master Shell, abbiamo trovato il titolo, citando Shakespeare, le campagne, non sono altre, che, ispirate, dal suono, delle campagne, del centro storico, di Genua, che, purtroppo per lui, evidentemente, suonano, tutte all'unisono, ma completamente, i personaggi, le personalità, differenze, tra l'altro, e grandi, differenze, tra l'altro, tanti, sembravano, possedute dai, popoli, che sono, i personaggi, cattivi, all'interno, proprio di personaggi. Vi lascio, un poste qui, che poi, alla fine, dopo l'intervento, di Marco, potete, per favore, non scogliatevi, vi chiedo solo, per favore, potete, trovare lì, la prima edizione, di The Chimes, che sono, del 244, la prima edizione, italiana, del Cattro di Natale, che potete dare un guardo, sulla, sull'indicisione, di Martimile Cortieri, di Villa Paravicino, delle Pischiere, esattamente, come la vide, come la vide, di Piazza. Io vi ringrazio, adesso, ho avuto la parola. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie. 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 Ecco, le sue penne, le sue carte e i suoi libri. Queste sono, diciamo, immagini di le lettere espresse da Pino Pellarello e da Pino Pellestino. Come vedete il libro, Genova, 10 maggio, con i servizi al 40%. Ecco, cosa c'è? Le nostre ricerche abbiamo già partiti dai suoi libri, ma soprattutto dalle lettere. Le lettere, cose che troviamo scritte anche in vicino o sportiva, ma le lettere hanno, diciamo, un'imilichezza all'inizio. Perciò troviamo delle sue alture delle cose che sono interessanti per poter vedere. Intanto, i libri, i libri qui, si era fatto con i libri, mandati la posta, lo studio con i libri, che però dopo una settimana non arrivava, e lui era molto avviato. All'inizio pura, se lo rappresa con i gesuiti, perché erano i libri con te, aveva paura che mi fermasse proprio la Lugana. E lui diceva, io non voglio con i gesuiti alla nuova religione. Comunque, promette anche che non servirà contro il re, contro il governatore, e le vibra contro le porte, a questa descrizione, a questo momento. Il clima. lì, quando arrivava qui, naturalmente due volte, inizio qua, giù, a Genova, perché c'era un campo speciale, si trovava benissimo. Pensate, stavamo in un trap di via San Andato, no? Pensate che era la villa, lui scendeva giù, fino al mare, c'era la vigna, e allora, quando arrivava l'altro, o stava nella linea, nel fresco, o su degli scogli di San Andato. Comunque, il tempo, per quanto affoso, non era completamente soleggiata. C'erano anche delle notti, dei giorni, in tempo terribili, da vittura, dei mari nel mestre. E questo ne fa la descrizione. Addirittura, quando poi parla, il settembre, per non andare niente nel destiere, il vento era una cosa, quindi, fuori, esagerati, come il solito fatto, succede al vento. che si fa la visita. Sì, sono un'altra cosa, quindi, esagerati, in un'altra cosa. No, non c'è, sono un'altra cosa. Non c'è, sono un'altra cosa. Ecco, in le sue lettere, ovviamente, dove troviamo i 15 litri. Ci sono le descrizioni dove, in pratica, si ha spandipolazioni, anzi, alle 8 e mezza, sono 12, Franza, hanno 4, e poi vanno ad attivare le 11. e come colazione hanno andato fresco perché sotto nella stalla di Piederello c'erano un po' il vino poi appunto lui però già alle 7 del mattino lo proviamo a sannalizzare a saltare sui scogli non si parlava di stare a vento perché si bussero le ginocchia in questo posto la famiglia si spaventò quando andò a prendere il fratello Fred perché stava allegando grazie al pescareccio i pescatori genovesi ma la famiglia che stava guardando il mondo dei scogli rimase molto impressionata da questo vino cosa succede anche per quanto riguarda il mangiare avete mai detto c'erano ovviamente dei defici appunto lui ciò apprezzato la genova come le mani che lui dice che è il prodotto più direzioso del mondo gli mondi in altre specie usavano per fare le spedizioni poi addirittura quando scrive a Foster dice non vorrei che per una o due settimane qua e assaggiasse il vino di un centesimo alla punta ecc proviamo anche la descrizione di come era un paesaggio di quando i prodotti c'erano questa cosa poi naturalmente una settimana ogni giorno arrivava un maestro per i figli con di scrittura francese e anche l'uvidanza per i figli di più e proprio due poi anche gli ex militari stiamo facendo una ricerca per dire che fosse un militare italiano immigrato non un'azienda non lo so via gli dava le azioni italiane e appunto fu quello che mi fece conoscere tra mesi scopi era anche diciamo un professore che ogni volta che Dites faceva una domanda particolare si imbarazzava a lettura a me la fama dello scrittore conosceva già e non lo so addirittura Dites ha trovato una lettera che scrive a un suo amico tutto in italiano e non è fatto per le mie errori fortissimi lui trova strano l'italiano per un aspetto per il fatto che noi usiamo il lei che lui prodotto un schifters femminile perciò lui dice ma immagina dare lei a un signore alto grosso baffuto era questa diciamo una cosa che trova strana nell'italiano come era questo giorno di ovvero lui dice che da Genova ha scritto poco perché aveva 29 da fare e dei teati da visitare durante la notte in queste camminate lui vede queste processioni che raccontava Matteo e quello che nota è il mezzero in cui nel modo stavano dava grazie anche se le giovani diceva che venivano molto carini quando tornano da queste processioni diventano matti finché non riescono a vestire le bambole di due ragazzine con un zero con vero perché era un zero piccolo ecco una cosa particolare che la metà la sera al fresco stava fuori del giardino di la bagnare e la cosa particolare vi fa la descrizione di un indiano che aveva sempre con un contadino il suo figlio un certo Antonio che non è pagare questo quanto fa vi raccontava sempre gli aspetti del Vangelo quasi come fosse Roma si non fosse come la dovesse convertirlo alla sua religione e poi vi aveva sempre una parabola che Gesù diceva che vede da tre volte quel campo del gato e evitava questo che immagino che l'amore che l'amore di sopra gli stizzino perciò anche tra quell'ore quando stavano dormendo immaginate questa scena di sparte di 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 si le persone che incontrò a Genova erano dei frati che stavano pesando alcuni materiali ma la cosa che nota anche siamo i nostri vedi addirittura in al bar mi viene raccontata una signora che passando appunto in questo via San Nazaro usciva veloce e a sinistra nella destra per far parte la stretta dovete uscire dalla fotografia stringe sull'esterno e chiaramente il movimento faceva sembrava un'amore qui questa fotografia è più da variare chiaramente non sono sottiche a loro però anche i cambi lucidi che passano lì lascia ancora essendo e questa è una cosa che vi notò male volte addirittura nel 53 quando tornò la seconda volta in Italia era un vento scrivendo la coniata gli dice guarda qua c'è la villa la via sembra come una croza di armato perciò si ricorda anni dopo Paolo che non sente barbara barbara ce l'ha sempre in testa probabilmente lui per il discorso dei libri non li vedeva molto bene diversamente dei particivi che sono migliori invece del popolo ma adesso andiamo a conoscere altri personaggi di barbara tantamente che barbara a un incontro anche con dialetto e con italiani cosa succede che la la bandaria diciamo la cuoca è quella che impara dalla bandaria è quella che parla in italiano solamente perché cosa gli serviva la cuoca italiana per spiegare i contaminati veramente però dominare di carri per poter farlo mangiare la bandina chiaramente si avvarsi anche di due l'unestici genovesi e lui fa la prescrizione di una scena mentre questi anche i gesti con l'animo pistoso litigano diciamo parlano molto forte con i suoi chiaramente una parte di genovese e l'altra sconda l'unestici di conseguenza non è a vista un'altra poi per quanto riguarda il discorso del genovese è anche molto particolare perché riesce a capire le differenze di come lo parla uno e lo scerco un altro addirittura il modo affari diciamo la gente immobiliare della pese quando dice il cibo il che c'è diciamo a tenere rapporti da tutti da schede lui è un punto che parla di genovese di più o meno di più ha questa diciamo atturezza di provare la diversità poi per questi genovesi c'era il coseno che aveva l'onore di essere per modo di dire inizionato per fare volte le lettere per cosa facendo in pratica consegnava la verità delle lettere poi se gli spiaceva si riloghiava davanti all'interno addirittura ovviamente quella che vedete in mezzo proprio la parte della lettera è una pia di scadress indirizzo nella vostra lettera tra buon posto perché qua nel postino non cade le lettere anche il proprietario da allora se la vedete per il contino era un'azionale diciamo che di particolare per quanto riguarda la costina c'è il fatto che una volta lo trova a giocare a boxe sotto la piena di magari non c'era un campo di boxe lo trova lì come il giorno che si stava sentolando come un giornale che doveva essere consegnata dalle donne in questo modo dobbiamo sapere anche gli orari di boxe della posta diciamo che questo postino è un'azionale di i i i giocatori di voce di nota e dice che sono molto minuziosi che giocano per il posto su un campo su un tavolo di mediano la cultura in descrizione della chiesa di alvaro racconta appunto che vede questi giocatori che stanno giocando a un certo punto quando non giocano entro dentro la chiesa si fanno il suo di crucio poi chiede l'aiuto torna fuori a giocare chiaramente vede anche il gioco della moda che gli vanno giusto la descrizione gravo scrittore dice pure mettendo questo gioco le altre 10 pinta sono sempre non intendo il suo gioco però ha portato di mano chiaramente per descrivere all'inglese cosa aveva visto il numero di Giovanni Battista come diceva Matteo nel suo gioco di strada di Gilema notano il del dico ma quelle che fanno più ricordo perché sono legate a un nome Giovanni Battista che lui addirittura utilizza due personaggi di due libri successivi suoi uno è appunto il libro Lidio e Dorit dove mi distruiva che è un sbaglio da questa capandesco dalle otto e Lidius questa storia fa rivedere in varie ruote una parola italiana alto che ha un cimile significato ma è come nel mani scusa una cosa quando viene interrogato questo romanzo di questo tale oro fa sempre questa domanda sia per quanto riguarda la villa e per quanto riguarda questi personaggi Clara che ha di fare con questa ombra in mondo scuro che addirittura ha scritto un italiano il signor dell'ombra non so lasciate tanto questa parola italiana e appunto c'è il legame anche tra questa Clara che è portata da l'armi e anche avanti abbiamo conosci scuola di crore che no di morte perché pura portata da il suo segretario Ross la storia di due due ladri o anzi due assassini che non ci si è ma per te qua qua genova e furono implicati nella piazza del mondo nel quartiere del mondo e c'era un'usanza particolare da descrivere e invece lo fa prima di essere implicati in giro delle sette dieci con uno dei detti che portava chiaramente giù al mondo per essere indicati chiaramente questo episodio è prontato perché lui involentario lo sapeva ma sapendo come venivano trattati in Italia questi condannati siamo tra noi in l'intera non era molto diversa c'è sono molti disordi che descrivere di implicati in terra che non è una cosa molto corretta comunque ci mandò il segretario per due giorni il segretario lo non ma immaginate un implicato il secondo prima di distra che lo implicato deve assistere a morte in panni poi c'è una cosa particolare queste sotto immagini sono il vecchio cimichero dell'inglese che si trovava sulla colina di San Medina che era quella che partiva e arrivava dalla l'antenne c'era questo cimichero dell'inglese questo esempio questa fotografia degli ultimi anni che poi nel 1904 dovremmo allargare il porto utilizzare queste cave qua e la colina smangiata in semenza tutte le sepolture che erano così che si chiedono trasferite dove c'erano di stagione e lì si trovano le vedi di stagione per quello dicevo ricercato c'erano perché sono stagione per amici dell'associazione di stagione abbiamo pulite poi ho fatto la decensione ho preso tutte le scritte sulle lati di pulite prima perché non c'erano 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 trasferite provate di cento tono cento di lati c'erano tra questi ci sono alcuni amici di di problemi di avanti andando a stadieno sono cercando questa che non l'avrei trovato finché non per me finché non state registrate il trasferimento è stato fatto a San De Poi cosa fa la descrizione quindi si trova per i più poveri sono in un anno per un mura dietro un punto sufficiente della comunicazione vicino al mare come fosse comune una per ogni giorno dell'anno questo qua si trova in fondo alla croce che era un coso delle anime in realtà sotto a forse dei ossalti quindi adesso c'è il palazzo dello sport c'è la fila si trova lì immaginate quando era il mare grosso copriva tutta queste coste coste comuni cadavano senza se ritrovavano questo succediva a chi era poco in questo spazio ci sono proprio le varie sezioni di questa cinque queste quale mi ha già parlato Matteo sono il confraterno di genovesi una di le comporte in l'unità naturalmente lui andava molto a teatro era una soluzione lui era anche un autore in l'Unghilterra che ci volete spettare insieme i suoi amici queste queste pagine giornali sono anche della gazzetta di genova dell'ora e potete vedere diciamo il teatro carlo che dice che mi tra il torno tutte volte io di uno io parlo prima e il teatro delle mille interno c'è qui sono dove mi andava a assistere a i pares o i curati e queste compagnie questi spettacoli sono premite come esempio di l'abriore la muotano che fa questa pagina intera cosa succede di ridendo tutto questi personaggi questi buratti come erano fatti qua troviamo appunto il teatro di prentia lo teatro delle di 500 persone questo qua è l'elenco dei parchi quando il 29 c'è quello di Carlo Pips che era un in pratica nel suo maniere e gli dava spesso il suo parco cosiddetta sappiamo che al 29 compagniamo il sistema di opere da lì poi cosa succede vedete camminare sull'altur nelle strade nove indonesi una fantastica storia e quello che mi scompeva come diceva lì passando il di caribano da l'orario sprendore sulla sinistra destra poi sulla sinistra c'era lì dove vive e se pari le spessioni sull'altur punto lui la sull'altur suggerisce incantare di far vedere veramente come si vede le due valli del cielo del design addirittura si presenta come una grande programma cinesi e chiaramente stiamo cercando da questi monti da questi forti sui monti che appunto seguono proprio una oraria cimara appunto non ricamminare faceva anche le strade noti non solo di la caribaldi ma anche gli avanti incontra le strade paulucci il governatore lui in generale chiese indienza se lui non lo può non incontrare anche se era vicino in Italia no già lui preferiva vedere sentire parlare di persone un po' fabiente di polvo oppure di medicanti lui parla anche del uomo senza gambe di strada uova e di medisano con braccio su dobbiamo trovare l'iscrizione e la ricerca di persone per chi non non del governatore piuttosto che del re come succede adesso sono fatto attuali ma come allora a volte una tenda a volte un tappeto a volte un lento a volte un terrascino vestiti ma ci sente qualcosa io quando faccio un giro faccio le vittime una due volte di bicicletta non è cambiato di guardarmi sotto alcuni altri venditori mancherò e polenta stabiliscono le loro valutate perché non sono affatto un finale si pone che sia sottolinepa veramente la descrizione lui parla di le leggere piedi dove ci sono l'indradi e le orenze ci sono ancora adesso l'indradi diciamo riproviamo quello di più di un secolo fa 180 anni anche adesso poi parla di andare nei vicoli e nei vicoli fanno l'affermazione vera che se sei un monaco o una donna non puoi entrare nel porto franco perché se la presenzione è che potresti nascondere sotto la donna o della donna o del monaco neanche un po' tra l'altro so che era che non 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 ci sono anche questi genitari che assistono a fare i carri questa questa gente poi cosa nota le farmacie dove possono riposarsi poi per facere le molte di seguita e si passano una povera giornata che c'è l'ingegna fa un'altra lettera e sono sei per te perché sono medici che guardano un attimo quando un'interparancia se ha bisogno di medicina o bisogna di medicina sono pronti a farsi farsi solo non tanti infatti diciamo dei barbieri ce n'è tanti ma perché la gente non si fa la parola da so un'altra poi avviene alla sera vede che ci sono i genitori che ci sono i genitori che ci sono i genitori di scopere però quando passa la salita sacreria c'è la cosa del diaglio nota che si grattano la testa che stavano sconacciando una cosa che non spesse volte fino di c'è il consul di violenza di violenza questa credente casa cambiata che aveva preso dal marchese e si trovava in sanita 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 la villa c'è ancora in pratica se non manete via piatti non vedete la poliziana salita sulla destra sinistra c'è ancora meno sulla destra vedete questa villa questa qua è la villa dove abitò il console che è una persona bianco buona che aiutò l'impostura degli italiani tra cui anche il composto e il prestato del soldi però questo è una cosa che aiutò anche una volta tornando dalla Francia si intipò il passaporto sull'alto martello lui aveva scrisse di aiutamenti non dò qualcuno al consul e il consul invece scelta questo per dire com'era la vita allora ecco una l'altra cosa che è per poter leggere a pochi presenti in un centro distretto a casa cambiata a casa della villa del consul è una cosa che noi siamo studiati da quel libro che si trova in questa biblioteca che è un libro che è scritto a un luogo Frederick il figlio del consul e lui un passaggio che trovo che con il loro rida qualità dalle personaggi famose Charles Rivers che deve essere loro conto questo pezzo del suo romanzo e questa richiesta era stessamente sua non avere niente nessuno per stare dietro e avere queste cose fatte mentre li leggeva si tirutava l'uretta che probabilmente può rinchiere l'acqua diciamo che il generale è stata l'unica l'unica lettura da parte di di niente del del terrestre scatto e questo è la tomba stradiera dell'andese di niente come diceva Matteo organizzata piacevole tutte le feste di negro indicando personaggi di tipo Lui si diventava tutto a sui personeri per suonare l'arma, però non ce ne aveva nessuno di questi conti, però piaceva. Mi piaceva anche durante queste feste che il servizio dice che l'arte in fronte, nascondersi dietro ai banderelli e ai sievi, di spuntare fuori facendo favore alle persone, si diventava di queste cose, è un po' utilizzato, anche se poi, diciamo, aveva la sua cultura. Al livello di Camerea ci sono tutti le uniche franette scritte da Littes, da una chiesa, dove, tra l'altro, la chiesa chiedeva di portare all'interno sforzamento da Pablo Carabur, di che se lo sopportava, in un certo punto, però poi diventava pesante. E naturalmente, quando si fa la festa, il compleanno della figlia della chiesa, successe quella cosa che era capitata. La prima chiesa, lì è del posto, la chiesa di Nero, scende giù da via Serra, come scrive via Serra, e poi passa, o la porta romana, ma si suppone che sia porta. Ma, quando si danno unto, sei dinamica all'interno sforzamento, ecco, tipo, non può essere un cognome, in modo di farmi casa, in modo di fare la classe, la стенra, non staglia, la scorta, esattiva a lui salary, non si fa niente poi una lettera che dice dovrò farmi massaggiare la schiena per il tuo cuore immaginate che sia senza luce corrente di questo coso cosa fosse successo ecco grazie no no ok questa è la tua посcione che ha un giudice nella maniera una parte a un palazzo burro Lui era un banchiere servizio, tra l'altro la sua banca era una delle tecniche di data, aveva terminato un sacramento, che rapporto c'era tra i grandi, tra il lavoro, tra il lavoro e l'ITNES. l'ITNES è un posto comunicato da rimuovere, poi non si trattava addirittura tutti i giorni prima di andare a Nascimento di l'ITNES, come mi piaceva a partire da Genova, non voleva vedere, diciamo, il cosiddetto di sé, il traslato, che si fuggiò a Palazzo Rosso. E lì potete vedere, ancora se potete vedere, io le descrivere, e si immaginava, nel suo segretario, quel famoso agente immobiliare, di litigare, perché sicuramente mancava qualcosa, qualcosa della messa. Lui è un rapporto stretto tra lei e l'ITNES, perché soffriva di tic nervosi, accitazioni, cose, e per quello lui cercò di curare con l'eserismo, la cura che aveva già parlato in Italia, iniziando con un parente, gli amici. E qua, provoca, diciamo, una paziente molto assurita, che lo cercava ogni volta, al punto di fare così, in rete, l'amico. Questa parte, diciamo, delle foto abbinate a quello che ha scritto, e secondo me, è la descrizione di santo, quello che dice, qua lo scrivo una lettera, appunto, a me della luce, e se a cui non pensi, perché poi, in questi stradevoli, a tutti, gli prego di fare attenzione, che mi prendi dalla tasca, su per quelle scala. Oltre quei posti, mi trovate un porto progresso, per dire l'ottile, su quella scala superiore, e così arriva il capadello, dove Michele, quasi il cuore, anche il nome del... Il capadello mi risponde, così ti lascia entrare nella stanza, dove si prendeva il capadello. E poi, io dico quanto bene, non ricordo, mi sembra di guardare giù dalle altre finestre, senza di lato, ora mi sono arrivato da sola. Grazie. 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 ma poi c'è niente, giù fino a fine, veramente un topo da Giulia Sant'Azzaro, si immagina solo il prodotto del valdino al fresco della meglia che arriva a ruttarsi in San Marino, cosa che faccio io, un po' probabilmente, non ci sono niente. Ovviamente parla delle lecce che sono giù in una stalla, poi nelle lezze istruzioni si vede lo suo scrittore, perché parlando di una mosca, dice che è una mosca che metà tutta su un penino, e poi è capita, e per quello ha creato questa macchia, la costituzione dalla macchia, l'hanno fatto provocamente alla mosca. I topi non ce ne sono, perché sono testi fuori dai cittadini, il vecchio Tom, se dobbiamo dire, il maschio è questo, che ha il maestro, che lui incontra nella vita universale del cittadino di San Marino, la pre-degradata, le lecaldine, i calmi, dice che veramente sono i padroni della vita, no? Poi, chiaramente, ci sono anche delle rane, le rane, e da rumore che fanno, non sembrano il rumore di un zonco di donne che vanno su giù per le marciatelle. Poi, seguendo, sempre alla mia maniera, seguendo una lucercola, il Pasquotelli posa, che non l'ho visto, al cancello, un appresco di due vasi, perché le pubblicità che va a trovare. Poi qua siamo nel 1853, quando ritorna per la seconda volta a Genova, va a abitare per alcuni giorni all'attore Monaco, in un po' per i cani, adesso non ho capito vedere che è in restauro, però è quello che lui, lui, tutto fa, la visione che è un posto, non finato, non è un posto, e poi scrive, la mamma mia, la casa, dicendo che, quindi, il vocatore, il vocatore, se fosse soddisfatto, in particolare, è un po' per i cani, non si va a portare a sconti, in particolare. Vi vedete, la single free world, che lo levo, questo qua è, una rivista inglese di quel tempo, si tratta di un venditore di cera, dentro questo bello, di filigrano. Ne abbiamo una conferma, perché uno dei due amici, che arrivarono nel 1853, a Genova, non ci sono i miei, ex-wilis, uno di questi, un aristopera, su amore, uno genio di fila, questo mi sa, un altro dato, questi sono, i vari posti, che vive, disse, che diceva, manca, veramente tempo, il quinto, quinto, quando era il vero, c'era la fase, tutte le sere, e un armeri in corpo, sono 4, 5 km, perché c'era la villa, nel suo mantiene, che andava a trovare, qua, un torno, passano 9 anni, quando era una visita, lui si ricorda ancora di Genova, e voleva appunto tornare, più proprio, invece, riuscire a portare, di sguardo a sottolineare, l'amore che aveva, che aveva per Genova. e c'è qualche effetto, di lui, fa la sensazione, tra l'altro, e dice, che le vecchie passeggiare, sono sempre le stesse, dietro a loro, la fine della peschera, non ha costruito, specialmente, in piede, se ne s'entenderea, dove, non andava, il design, è sempre stesso, come, sono forti, come pochissimi anni, i piccoli, che usano, il formaggio, come una volta, come si usano, c'è sempre, il collegio, di Gesù, in strada nuova, è diventato, in strada nuova, in palazzo, fa la protezione, di un caffè, che, nuovo, a un altro, vicino al canale, che dice, gli albana, dice che c'è il canicello, la parola, non si è un uomo, e poi, la cosa buiosa, che sottolinea, il suo, intersamento, verso le persone comuni, che dice, che l'uomo senza gambe, che aveva visto, anni prima, anni fu, in strada d'Europa, e i cani, che non ci sono, e il peccolo, intermissario, purtroppo, è mancato, un uomo, questo lo scrive, la monica, cioè non è che scrive, il contratto, il marchese, o il contratto, da, scrive, queste persone, o parli, cosa succede, qual è che, parli, a fine di ottobre, diciamo, nel 66, 15, con gli, c'era, c'era, l'entronizzata, e, erano pareti, di novella, un posto, un po' di due, di tre, con una, un po' di due, un po' di due, di un po' di due, un po' di due, particolare, partendo, diciamo, in posto, dove avevo, uscito, e, a Nattara, vi avveneremo, si fermano, sotto, gli alberi, c'era un po' di una nuova, e, cosa è questo? Un pangosce, che, un pangosce, ce l'helopinto. Probabilmente, poi guardano, anche, a, 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 Cosa succede? Vedete questa qua è una lettera che scrissero questi congi inglesi, non era proprio la stessa che scrissero la vita se non un'altra persona, ma in particolare c'hanno una piantina stampata, una piantina vicino. Quanto avevano segnato dove si trovano la loro casa, che era per incarinare. È diversamente questa lettera che dice da tua bocca, ma ti porta davanti la mia amata gente, mi piacerebbe davvero che il mio cuore guardasse giù la sua paia o la porta dalle altre comuni. Questa è la sua impressione nel 67. Poi, quattro anni dopo, il 9 giugno, questa è la fine, scritta nel mani scritto di Svascaro. C'è una cosa particolare. Il 9 giugno è una lettera che ho trovato, ci viene una specie televisiva, c'è una vita di Genova, l'unità di inizia a Genova. Il 9 giugno del 45, con dispiacere, va via 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 Grazie.